la proiezione di peters l'indecisione era se fare un video lungo lunghissimo elencando come faccio di solito velocemente tutte le chicche sentite nel weekend della moto gp oppure un video corto che ne realizzasse una sola quella più grottesca quella più assurda per capire come si sia potuto arrivare a questo tipo di livello di patologia ho scelto la terza strada verrà fuori temo un video lunghissimo quella che cerca di capire a chi siamo in mano noi quando ci raccontano le cose un po come ormai ci mettiamo a confutare le singole situazioni ma quando invece è tutto l'impianto e lo scenario che è storto un po come se ci mettessimo all'ustare le posate a pensare dove vanno i vari coltelli e forchette mentre stiamo apparecchiando che ne so per terra c'è una cosa che non c'entra niente la proiezione di peters dopo abbiamo due problemi uno è l'inconsapevolezza totale di chi ci racconta le cose un esempio superbike nove ore di diretta una parte della quale con bandiere rossa eccetera non riuscire a dare due notizie che anche i blogger rincoglioniti avevano dato già da tempo melandri che da mo' ha firmato con l'aprile e laverti che da mo' è a piedi in superbike però perché vai in a rt è uguale con idel va diventa compagno di squadra di idel tutta la notizia così la bmw che rimane in superbike in realtà fa la evo tutte robe che sapevano tutti quelli che dovevano saperle difficile non è difficile pure niente arrivare le notizie tre quattro giorni dopo più che jet set giornalistico jet lag giornalistico quando persino moto sprint il cui slogan è le notizie della settimana scorsa a partire dalla settimana prossima lo so sono crudele ha tempo di uscire e dire che melandri ha firmato in aprilia e laverti gli lascia il posto per andare il crt arriva il commissario basettoni e twittare forse melandri in aprilia minchia bravo hai vinto un frigo a legna che ti si addice proprio la proiezione dell'investigatore la più grossa redazione sportiva d'italia dorme e non ne becca una e ogni sera è costata andare a leggere tutti i bloghetti di merda e a contro twittare pensa come siamo messi ovviamente l'inconsapevolezza è dovuta al fatto che c'è della gente che in sala stampa non ci mette piede mai e quando va in pitlane sembra un cavallo scosso del paglio di siena che non sa se deve attraversare dove deve attraversare quando deve andare si ferma ad ascoltare in cuffia così come un gatto davanti ai fari delle macchine delle persone che non sanno quasi niente di quello che succede e che non lo riconoscerebbero nemmeno se vi capitassero dentro ascoltano chi persone in cuffia che ne sanno meno di loro la proiezione del nulla poi c'è un tema che vorrei affrontare da un po' dorna è buona e dorna è cattiva secondo me dorna è dorna oggi ho detto perché secondo me ha comprato la superbike e quest'anno è un anno di transizione ho fatto un'intervista di sperata più o meno sta succedendo tutto quello che si pensava succedesse dorna è responsabile di alcune cose di altre no e invece arrivano gli investigatori che scoprono che i calendari sono concomitanti cazzo bravi e danno la colpa a chi? a dorna non a chi li ha fatti in realtà i calendari sono stati fatti da infron proprio per andare in quel posto a dorna un attimo prima di essere comprati quindi i calendari non sono sbagliati sono giustissimi secondo la proiezione di infron è come se io servissi un cibo il cibo cucinato da un altro e mi prendessi la colpa posso avere la colpa di servirlo male di servirlo freddo ma se cattivo non è colpa mia dorna non ha le colpe di tutto dorna non ha la colpa di aver messo a tonno elias al posto del povero fabrizio fabrizio che stupido non è che ha un manager molto in gamba ha avuto la possibilità di salire su una moto ufficiale e lo ha fatto elias tutt'altro che favorito da dorna visto che è stato lasciato licenziare per mettere al suo posto un argentino perché c'è il gran premio di argentino è il contrario del favorito da dorna elias ha trovato una moto dorna è contenta del regalo ricevuto ma non c'è un merito non c'è mafia non c'è colpa solo fortuna caso così come non ha nessuna colpa dei piloti che si fratturano e che cadono sull'olio diventano 12 fanno sembrare il campionato un campionato della parrocchia che poi la superbike è in difficoltà campionato della parrocchia ancora non è ma se sono questi i motivi per cui lo diventeranno la colpa non è di donna se il regolamento invece ucciderà la superbike allora sì sarà colpa di donna così come non è colpa di donna neanche il fatto che forse abbi shabby forest salirà sulla ducati poi magari ci pensi su e capisci che chi alimenta tutto questo è la stessa è sono quelle stesse persone che vorrebbero un po di gare in chiaro per l'anno prossimo e invece non gli viene non gli viene fornita questa possibilità vabbè la proiezione delle colpe di donna che è colpevole anche delle cose che hanno fatto gli altri del meteo e di quelle che deve ancora fare però stranamente è bravissima moto gp dove assolutamente invece è responsabile nel bene e nel male di quello che succede quindi io ce l'ho con donna non ce l'ho con donna ce l'ho con donna per le cose che secondo me donna sbaglia e altrimenti no la proiezione degli investigatori sono quelli che alle gare non ci vanno e allora da casa ci hanno queste idee brillanti perché altrimenti che cazzo scrivono iniziano a inventarsi i complotti come certi siti che prima prendevano il contributo dai campionati i soldi e adesso non lo prendono più e non mandano gli inviati e rosicano io non ho mai preso il contributo e quindi quando sono contro o a favore lo sono per quello che vedo penso non per quello che non mi danno più ok sì ci sono i siti che prendevano i soldi non lo sapevate questo la proiezione della tv la disperazione che caratterizza i media sempre meno credibili noi siamo la tv che cazzo ci avete sempre creduto adesso che vogliono sti social maledetti che ci fanno il pelo per tutta la settimana le cazzate che diciamo in poche ore di trasmissione prima potevamo dire quello che voleva quello che volevamo finiva la trasmissione scappavamo e tutti muti adesso questi registri non sanno leggere i dati vanno su wikipedia si ricordano non posso più dire che quello non posso più inventare niente siamo ancora noi numeri uno mi sembra di sentire di vedere la chiesa che rantola e cerca di tenersi fedeli che invece la domenica non vogliono più andare a messa e non credono più a certe cose non importa se non si esagera più platealmente come ultimamente si faceva si sta un po' ammorbidendo questa cosa se non si dice più ai piloti che si devono suicidare sono tornati i toni gentili poi dopo che abbiamo qualche blogger notato che valentino viene chiamato solo valentino mentre gli altri nomi e cognome adesso basettoni inizia a chiamarlo valentino rossi tutte le volte immagino già la riunione di redazione io ne ho fatti abbastanza anche se non sono giornalista nei format che ho scritto nei meeting o ci sono questi rompicazzo che ci dicono che rossi lo chiamiamo sempre solo per nome mi raccomando d'ora in poi anche per cognome ok basta che riascoltate la telecronaca la proiezione di mettere a posto la volta dopo quello che dicono gli odiati social che non contano niente però si ascoltano sempre anzi gli si risponde anche durante la telecronaca tweet e contro tweet marchette comprese che adesso non si fanno più dentro la trasmissione della moto gp visti i richiami che secondo me devono aver avuto grazie alle segnalazioni di qualcuno si fanno una trasmissione apposta per fare la marchetta marchetta separata è una vittoria eppure questi maledetti social sono addirittura composti da coglioni non so se avete letto qualche sfoghetto se si permettono di criticare prima i blogger non esistevano venivano ignorati poi si è cominciato a rispondere ai blogger adesso si risponde anche agli utenti del blogger uno per uno cioè se faccio un ubriaco passante che arriva su una pagina scrive una cazzata gli si risponde ma è porta a porta è un'altra vittoria praticamente la gente che secondo loro dovrebbe guardare la tv dovrebbe guardarla muta poi morire e risuscitare nuovamente prima della televendita della gara successiva cos'è sta storia di criticare una roba da bar come se gli utenti di queste tv fossero prima ad oggi scienziati rettori delle università notai premi nobel invece di migliorare il prodotto si decide di screditare chi lo compra pretendendo che si tappi la bocca dopo che la trasmissione è finita fino alla trasmissione successiva dove però può dire solo bravo ma una cosa non va bene questo dovrebbe dire uno quando vede che il padre di qualcuno che va in tv a difendere il figlio ci infila dentro una marchetta all m3 al volo poi dice che ducati una moto infetta che non solo rende pippe quando quando uno la guida ma che lascia pure degli strascichi di pippitudine biennali è quando resetterà la centralina quanto ci vuole per resettare la centralina è come l'epatite la ducati ti rimane nel fegato per degli anni non guarisci più come la malaria solo stonere guarito solo lui ha resettato la centralina io non so come in ducati consentano queste cose cosa vuoi dire a uno che dice che il problema di marquez è che dal 200 per cento che problema è quando da quando è un problema cosa vuoi dire a uno che dice che il cambio simile sia ma non funziona bene dopo averlo imitato per ore come un bambino ma poi ci vince uno ci vince la gara e l'altro becca 15 secondi che proiezione è la proiezione di peter se adesso vi racconto una cosa un po di pazienza dovete sapere che praticamente le mappe che conosciamo derivano dall'impostazione di mercatore atlante navigatori persino google maps più o meno le carte geografiche di scuola tutte mercatore è stato mercatore è stato un cartografo originario fiammingo originario della germania che ha dato questa impostazione alle mappe in modo che servissero agli europei l'africa il sud america l'asia sono grandi ma non sono proporzionate rispetto all'europa che è grandissima non rispetta le dimensioni reali sembra più grande del sud america che invece molto molto più grande da bambino mi hanno regalato un atlante con la proiezione di peters e questa cosa mi ha appassionato la distorsione della realtà che racconta perché che serve per raccontarla meglio e da sempre una mia fissazione alla fine la proiezione di mercatore serve a dare un centro alla realtà per farla comoda lo stesso meridiano di grinch imposto dagli inglesi e gli americani è una violenza lassù non ha senso è sbagliato la realtà è oggettiva non deve essere comoda la realtà non ha un centro comodo la realtà è la realtà e basta nel 1973 quindi da poco arno peters ha contestato questo modo di fare le mappe che facilitava la navigazione però distorceva la realtà nella proiezione di peters si vedono i continenti nelle loro proporzioni naturali l'europa non è più così grande non è più al centro come la conosciamo noi la realtà è una e non va distorta per comodità o per raccontare le cose come ci piacciono come ci tornano utili la realtà racconta le cose e basta non vi spiego i dettagli cercate su google su wikipedia cercate la proiezione di peters e avrete delle sorprese peters nel motociclismo è uguale quello che viene raccontato a noi la realtà è una si chiama cronometro si chiama classifica le altre puttanate non contano la realtà non è né bella né brutta nel motociclismo non è che dobbiamo basare tutto quello che ci piace tutto su quello che ci piace trovando mille scuse giustificazioni per metterlo sempre al centro ingrandirlo anche quando è diventato piccolo o non è più grande abbastanza come una volta come piaceva a noi altrimenti per far tornare sempre al centro quello che piace a noi o piaceva a noi o diventa comodo per noi finiamo per distorcere la realtà in modo irrecuperabile e non ci rendiamo più conto di quello che sta succedendo veramente perché come per le mappe nelle informazioni vince la proiezione di mercatore perché è più comoda facile e utile per i colonizzatori cioè quelli che vi impongono la loro verità mentre gli schiavi si attaccano e in questo modo saranno sempre sminuiti e mai liberi e non sapranno mai come stanno veramente le cose io però la vedo come peters a chi indovina perché ho questo buffo copricapo glielo mando a casa